La Lega Coop si conferma organizzazione sensibile al futuro sostenibile e al fianco delle persone più fragili. L'edizione 2024 del Festival della Sostenibilità, che si è svolta al Chiostro del Carmine di Oristano dal 26 al 29 giugno, dal titolo Desiderabili Futuri senza disuguaglianze per un mondo più sostenibile, ha messo al centro del dibattito il lavoro, i servizi fondamentali finalizzati a garantire la piena espressione della persona umana e a contrastare le disuguaglianze, la sfida climatica e la transizione ecologica, come volano di sviluppo giusto per il protagonismo e il pieno sviluppo delle nuove generazioni. Temi in linea con i contenuti dell'Agenda 2030, che Lega Coop insieme al Forum Disuguaglianze e Diversità, Dromos Festival e Avis, ha messo al centro dei dibattiti e tavole rotonde che hanno visto avvicendarsi al tavolo relatori di valenza nazionale e internazionale. Il bilancio è sicuramente positivo, molto partecipato sia a tutti i dibattiti, sia in termini di presenza sia in termini di qualità delle relazioni che sono state portate. Il primo tema di discussione è stato il lavoro buono e dignitoso, sicuro, cooperativo, seguito da quello sui servizi fondamentali per garantire la piena espressione della persona umana, contrastare le disuguaglianze territoriali con politiche pubbliche sensibili ai luoghi. Il festival è stato arricchito da visite guidate nei principali siti archeologici del territorio e tra le realtà che hanno scelto di operare in armonia con ambiente e comunità. L'ultima giornata infine è stata dedicata al confronto per una transizione ecologica socialmente giusta sulla base della sfida che l'Unione Europea con il Green Deal ha lanciato al mondo, assicurare una crescita che preservi salute, sostenibilità e prosperità del pianeta. Stiamo cercando di portare tutta la cooperazione sapendo che non basta quello di costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile che possa lasciare alle prossime generazioni un mondo migliore. Sappiamo di doverlo fare insieme a tanti, nessuno è autosufficiente. Il festival è proprio questo, un contenitore di più mondi, più idee, più diversità che si confrontano, che cercano una soluzione comune rispetto alle complessità che ci sono da affrontare.